Bassano, il gruppo alpini di Marchesane, si prepara a festeggiare l'ottantesimo anniversario della Fondazione, ricco il programma che le pene nere hanno predisposto per il fine settimana. Si parte sabato sera, 19 ottobre, con il concerto del Coro e del Vai, sana Montegrappa, alle 20.45 in chiesa. Domenica poi alle 9, l'ammassamento in via Marchesane, alle 10 la Santa Messa, cui seguirà la sfilata fino al monumento ai caduti, l'alza bandiera, l'onore ai caduti e i discorsi delle autorità.